E' stata aperta ieri al traffico a Gandino la nuova bretella che permette di saltare l'abitato di Barzizza, lungo la strada di collegamento con il Monte Farno. La realizzazione di quest'opera ha incontrato vari problemi, sia nella fase di gestazione sia in quella realizzativa. Era uno dei punti importanti dell'amministrazione guidata da Gustavo Maccari fin dall'insediamento nel 2002. Il costo complessivo, lievitato rispetto alle previsioni iniziali, è arrivato a quota 930.000 euro. L'ultimo nodo da sciogliere è stato quello dell'innesto della bretella su via Milano, nella zona di Cadapi. Alcuni residenti avevano espresso preoccupazione per l'aumento di transiti e per la pericolosità dell'innesto. La soluzione adottata è stata quella di un semaforo intelligente, cioè in grado di leggere la situazione di traffico lungo le due direttrici. Il sindaco ha detto che sostanzialmente favorirà nei giorni feriali il flusso d'ai per Barzizza, mentre nel fine settimana il transito verso il Farno avrà adeguate tempistiche.